ad esprimere in queste ore sulla questione zona rossa in bassa val seriana l'assessore al bilancio di regione lombardia caparini che replica le dichiarazioni del ministro boccia in merito a ruolo delle regioni boccia ministro per gli affari regionali ospite della trasmissione l'intervista di maria latella su sky tg 24 ha detto se l'autonomia è sussidiarietà è un conto se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è no perché crolli ha ribadito il ministro che nel corso del suo intervento ha ricordato come la sanità secondo la nostra costituzione sia di competenza regionale lo stato sta aiutando tutte le regioni secondo un programma mai visto prima dal dopoguerra in poi subito è arrivata la replica del presidente fontana e dell'assessore caparini la lombardia sta uscendo dalla crisi coronavirus malgrado questo governo incapace di gestire l'ordinarietà figuriamoci l'emergenza quando il ministro boccia afferma che nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola dice un'eresia martedì prossimo per la prima volta dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus si riunirà il consiglio regionale della lombardia sarà in forma ridotta con presenti 41 degli 80 consiglieri per garantire le distanze di sicurezza tra di loro ci sarà l'esponente del pd scandella l'usonese che come tutti i bergamaschi sta vivendo sulla propria pelle la catastrofe che si è scatenata soprattutto in val seriana sarà questa l'occasione per sottoporre alcune questioni all'assessore regionale al welfare gallera tra le cose trattate proporrò l'istituzione di una commissione d'inchiesta regionale che faccia chiarezza su quanto accaduto in bergamasca con particolare riferimento alla situazione dell'ospedale di alzano lombardo e della valle seriana la polizia di stato ha emanato un comunicato che ufficializza la falsità dell'avviso che è apparso in questi giorni in diverse province italiane si è diffuso in questi giorni in molte province un volantino falso scritto su carta intestata del ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza con il logo della repubblica italiana il falso volantino che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano per rientrare nel proprio domicilio di residenza perché sarebbe in corso l'attività di controllo delle autorità vi invitiamo a fare attenzione potrebbe essere l'astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case in questo periodo di emergenza da covid 19 dopo gli aiuti pervenuti dalla cina russia e cuba anche l'albania ha deciso di inviare 30 medici in italia per l'emergenza coronavirus i medici sono atterrati sabato a roma e trasferiti a bergamo nell'ospedale dell'associazione nazionale alpini i 30 medici si fermeranno in italia per un mese e saranno pagati dall'albania non potevo vedere l'italia fronteggiare questa difficoltà ha dichiarato il premier albanese rama ad accogliere i medici sabato il ministro di maio continua l'operazione dalla russia con amore svolta dai militari russi giunti in italia per l'emergenza coronavirus in collaborazione con l'esercito italiano da tre giorni i militari stanno sanificando le case di riposo della val seriana dopo il primo intervento ad alzano e nembro il secondo ad albino e gazzaniga domenica i militari hanno sanificato le case di riposo fondazione caccia in del negro di gandino casa serena di leffe e san giuseppe di casnigo sanificate inoltre parte delle strade principali dei comuni a coordinare l'intervento presenti il vicepresidente della fondazione caccia in del negro in berti il dottor menghini e il personale tecnico della fondazione nei prossimi giorni proseguirà l'operazione di sanificazione anche nelle altre rsa della provincia di bergamo il virus si è portato via anche flavio marinoni amico di teleclusone noto video reporter e fotografo di rovetta si è spento domenica mattina all'ospedale san luca di milano dove era ricoverato da alcuni giorni a darne il triste annuncio il figlio morgan che ci scrive caro papà sei stato un papà stupendo meraviglioso mi hai trasmesso la tua passione fotografare con l'amore cogliere quell'istante per renderlo eterno mi hai dato tanto mi hai reso la persona che sono ti voglio tanto bene asta sempre la victoria il tuo bambino adesso mi prendo cura della mamma flavio aveva iniziato la sua carriera come fotografo girando il mondo per alcune agenzie giornalistiche per poi diventare un reporter collaborando per le reti nazionali fra cui la rai fra le sue produzioni più note nel mondo televisivo donna avventura la redazione domenica gli ha dedicato la puntata ambientata in terra santa ciao flavio un saluto da tutti noi di teleclusone e di valseriana news grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille